E' molto semplice quanto è importante questa mozione, questa richiesta che facciamo alla Regione e alla Giunta. Sappiamo che oggi in un momento in cui si parla appunto di cambiamenti climatici, sostenibilità, sostenibilità anche delle aziende e di tutto quello che riguarda la vita dei cittadini, dobbiamo anche dare un esempio in quanto classe politica ed è chiaro che sono esempi che non impattano in modo massiccio sul sistema, sull'ambiente ma che danno una direzione, danno anche l'esempio alla cittadinanza di quello che sarebbe la corretta gestione dei rifiuti. Noi chiediamo che sull'esempio delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 dove si è deciso appunto di fare le medaglie grazie ai metalli preziosi che sono stati recuperati dai RAE, i rifiuti elettrici e elettronici si faccia anche per le Olimpiadi Lombarde, le Olimpiadi Invernali, la possibilità di utilizzare appunto i RAE per poi andare a recuperare metalli preziosi e produrre le famose medaglie olimpiche. Sarà un compito anche più semplice perché sono meno le medaglie olimpiche invernali ma sarà un segnale forte per il territorio, possiamo fare sì che la Regione promuova questa iniziativa presso il Comitato Olimpico, possiamo fare in modo che si dia l'esempio ai cittadini. Certo la nostra richiesta è che questo sia il primo passaggio sulle medaglie e credo che sia condivisibile, infatti ringrazio anche il sottosegretario Rossi per aver espresso comunque un'opinione positiva su questa proposta anche sui giornali. Credo che sia importante come primo passaggio per poi lavorare a delle Olimpiadi che siano sostenibili da tutto il punto di vista, quindi sia come infrastrutture che verranno a insistere sul territorio, sia come riqualificazione dell'esistente, sia come proprio utilizzo dei materiali all'interno della competizione olimpica che possa essere il più possibile plastic free e che possa seguire le orme di un'economia circolare che tuteli l'ambiente e che sia da esempio per le generazioni future. Mi è piaciuto molto l'idea di coniugare riciclo di rifiuti elettrici e elettronici, economia circolare e sport proprio perché sono tutti aspetti che vanno a impattare spesso anche sui più giovani e che possono appunto essere da esempio per i più giovani per il futuro, per creare un futuro sostenibile che possa essere migliore per loro e con una migliore qualità di vita per tutti noi.